parliamo della reggiana pattinaggio buongiorno al presidente bentornato antonio mele buongiorno grazie ancora dell'invito e un saluto a tutti i reggiani che ci stanno guardando iniziamo subito con le iniziative che avete in programma il primo il 2 il 3 di novembre ci sarà il trofeo città di reggio quale sarà il programma sì allora per il quinto anno lo facciamo il trofeo organizziamo assieme all'ente axi il trofeo città di reggio emilia e quest'anno visto le adesioni degli anni precedenti abbiamo siamo riusciti a organizzarlo su nell'arco di tre giorni prevederà delle gare a livello promozionale a livello agonistico gli atleti un po di tutte l'età e soprattutto da varie regioni d'italia abbiamo già iniziato a ricevere iscrizioni di società che che ci conoscono da veneto trentino toscana marchi sarete a cabriago a cabriago al pala al pala ebbe quindi sarà uno spettacolo vedere tutti questi atleti bassi come come gli altri anni sono manifestazioni che fino adesso sono riuscite bene speriamo di di continuare anche quest'anno sempre bello appunto da vedere bello da praticare sono iniziati i vostri corsi si abbiamo allora diciamo che non siamo per i bambini o anche per gli nostri agonisti non siamo quasi mai stati fermi nemmeno in estate perché con i bambini con i piccoli abbiamo usufruito delle piste all'aperto sia quella parrocchiale di rivalta che alla pista del centro sociale rosta nuova e dopo chiaramente dai primi di ottobre siamo tornati al coperto quindi abbiamo i centri d'avviamento che sono al alla canalina arriva alla palestra rivalta nuova alla zavaroni ma abbiamo confermato la nostra presenza anche in montagna perché abbiamo un centro d'avviamento anche a carpineti dove oltre al centro d'avviamento abbiamo anche un gruppo di agonisti che è intrapreso da un anno due anche il discorso delle gare nazionali regionali quindi da che età si può iniziare a fare i vostri corsi e sono sempre aperti si sono sempre aperti e direi che abbiamo direi che diciamo dai tre anni perché abbiamo appunto delle bimbe dei bambini di tre anni e questo grazie anche a fatto appunto che siamo rimasti aperti anche durante l'estate soprattutto frequentando diciamo da 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 anni la pista che c'è al al pigal dove fra l'altro abbiamo sviluppato una collaborazione che appunto prevede la nostra presenza diciamo costante per tutto il periodo estivo all'aperto e adesso fra l'altro questa collaborazione ha portato ad avere un ufficio nostro abbiamo cambiato sede sede sociale quindi abbiamo un ufficio all'interno della della struttura del pigal poi sappiamo che è in previsione una coperta da tempo da tempo devo dire una copertura della pista che c'è a fianco all'aperto che ripeto usiamo da anni ogni estate e sperando che questa collaborazione arrivi a essere continua per tutto l'arco dell'anno anche perché assieme a questi bambini noi abbiamo anche la collaborazione con l'inclusive che praticamente prevede l'inclusione di bambini e bambine diciamo meno fortunati che pattinano assieme alle nostre piccole invece questo altro progetto è portato avanti lei parlava giustamente anche dell'agonismo che obiettivi avete quali risultati allora i risultati vengono i risultati vengono e chiaramente ne siamo contenti noi cerchiamo sempre di impostare un discorso sia con gli atleti ma anche con i genitori come dirigenti parliamo cerchiamo di parlare tanto con i genitori per far capire che è chiaro che se un atleta fa le gare va sul podio siamo più contenti noi e più contento l'atleta eccetera però per noi l'importante è che stiano bene loro insieme che facciano bene diciamo lo sport che abbiano un approccio perché è difficile perché è uno sport singolo però poi ci si allena in tanti c'è gruppo quindi la cosa più bella è vedere che quando fanno le gareggiano non so due tre delle nostre atlete vedere gli altri genitori e gli altri diciamo gli altri atleti che vengono apposta a fare il tifo ma non solo per gare diciamo qua vicine provinciali quindi insomma siete diventati anche una famiglia senta prima di salutarla allora vogliamo ricordare l'appuntamento per le persone che vogliono venire a vedere certo siamo al pala al pala ebbe il primo il 1 il 2 il 3 di novembre da che ora è l'accesso è libero e stiamo di lì stiamo per quello stiamo ancora organizzando dovremmo secondo i programmi attuali dovremmo partire venerdì pomeriggio dalle 14 14 14 30 sì sì e comunque per ogni per ogni info che ci riguardano abbiamo le due pagine social sia su facebook e su instagram dove continuamente cerchiamo di aggiornare sì 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 e lì ci sono anche gli orari e i turni e le palestre per i bambini che che vogliono iniziare quindi la ringrazio grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi